buon ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video buon ciao a tutti guardiamo un po' ragazzi guarderemo il trailer della 1.20 di wankraft vabbè ragazzi intanto vi metto un attimo i sottotitoli ragazzi qui c'è tutto il trailer tutte le cavolate noi vogliamo vedere tutte le nuove novità piuttosto ok io ho scoperto già le nuove skin adesso guarderemo un trailer si vabbè vabbè ho capito ok guardate ok qui c'è alex steve che mette delle casca oh raga nuove skin raga così figo adesso quindi non c'è più soltanto steve e alex figo raga adesso ci sono pure altre skin perché prima avevamo solo steve e alex come skin principali basic figo finalmente figo che figo che figo so trailer so trailer metteranno anche il cammello forse almeno così mi hanno detto ok raga schiapiamo tutta la parte e vi cerco qualcosa di figo oh raga case di bambù che cacchio aspetta case di bambù che figo no puoi creare le panafitte con il bambù no no madonna raga guardate puoi creare tipo di tutto con questo blocco nuovo oh raga puoi prendere i libri ah figo ma li puoi rimettere sì alleluia poi puoi anche creare i passaggi segreti vabbè Vabbè, fateci vedere le robe nuove. Vabbè, non le f... Oh! Io voglio vedere... Tutte le robe fine. Voglio vedere qualcosa di fico. Voglio vedere tipo come creano le backrooms. Certo, come creano le escape room che poi... Tipo, se lo toglie un libro, si apre una porta, raga, vabbè. Molto figo? Raga, mi sa che mi sono spoilerato qualcosa. Cosa? No. Non dite mi che è vero. Quello che ho visto prima. Ok, lui, schimmo. No! No! I cammelli. Ci puoi andare in due. Ci puoi andare in due, che figo. Quindi uno guida e l'altro spara, no. Sembra un po' lento. Però, raga, Andarci in due è molto utile. Cioè, è assurdo. Mamma... Mamma mia, che salti! Madonna! No! Madonna! Penso che per ora è tutto. Penso che per ora è tutto.